Riaperta finalmente dopo 20 anni, Viale Ovidio all'Aquila come stabilito nel piano urbano della mobilità sostenibile. L'impresa aquilana EG Costruzioni ha riconsegnati lavori al comune quasi un mese prima rispetto alla scadenza fissata, lavori per quasi 500 mila euro con risorse del fondo complementare del PNRR. Il Viale avrà per il momento un unico senso di marcia in salita verso la fontana luminosa e alleggerirà di molto il traffico nella zona, oltre a permettere di avere 15 posti in auto in più rispetto ai 24 esistenti con due per le persone con disabilità. Il comune vuole monitorare la situazione per alcuni mesi, poi si vedrà se cambiare le cose. Nell'area è stato realizzato anche un marciapiede, c'è un'area verde con panchine. Nel progetto era previsto il doppio senso di marcia ma è una previsione che poi abbiamo deciso di non portare avanti perché così riusciamo ad avere qualche parcheggio in più, quindi sarà in salita. È una soluzione che noi adotteremo per qualche mese, vediamo come va, calcoleremo i flussi di traffico, vedremo anche la reazione dell'utenza e qualora fosse necessario potremmo anche decidere di invertire il senso di marcia che sarà comunque sempre unico. Ci sono parcheggi utili per l'ingresso in città e quindi abbiamo dato seguito a richieste dei cittadini e i lavori poi faccio notare che si sono conclusi molto velocemente e siamo soddisfatti dell'opera. Riapriamo questa strada dopo quasi 20 anni, ci saranno nuovi parcheggi ma non soltanto, arredo urbano, panchine, centri di ricarica, insomma tutto ciò che serve a una città moderna e soprattutto ci sarà anche il recupero di alcuni stalli dei disabili che abbiamo dovuto momentaneamente togliere da altre parti per consentire i tanti lavori che interessano il centro cittadino. È una città che cambia costantemente, che cambia in meglio. Ma intanto all'Aquila il dibattito si accende con poco. A scatenare ora qualche ironia sul web eppure qualche polemica, se mai ce ne fossero poche, sono stati nuovi arredi introdotti nell'ambito della riqualificazione della nuova pavimentazione. Si tratta di arredi sparti traffico di colore marrone che sono stati posti ai margini del corso principale. In Trentino Alto Adige sono una consuetudine ma l'Aquila e i cittadini si fermano lì a guardare come se fossero oggetti misteriosi. A chi piace e a chi no, questione di gusti.